allora vi voglio far vedere la differenza tra tenere il suolo scoperto qui questo è carcadè e ocra guardate cresce la gramigna qui e queste sono i filari carcadè guardate che differenza suolo scoperto e suolo coperto con la pacciamatura guardate quanto cresce di più la roba questo è stato tutto seminato nello stesso momento guardate che differenza di crescita pacciamatura si forma la struttura del terreno le radici vanno a mangiare qui c'è bisogno di innaffiare molto molto di meno guardate che differenza mi sposto di nuovo nella zona senza pacciamatura qui c'è sempre di meno finché non c'è più nulla guardate quanto è più basso e quanto cresce di meno qua annaffiamo tre volte di più e guardate il terreno come crepa non riesco è secco già proprio secco e andare giù vedete com'è arenoso questo ragazzi è una cosa semplicissima che l'agricoltura convenzionale dovrà imparare guardate guardate la linea di confine no da lì c'è la pacciamatura qui non c'è questa differenza